Ciao a tutti ragazzi e finalmente siamo qui senza quei tre coglioni, quindi oggi divertimento assicurato e quindi che dire, benvenuti nel mio one man show! Oh, andiamo a... Aspetta... Vai, vai... Cazzo, cazzo, cazzo... Ciao a tutti ragazzi, siamo gli Allminders e oggi siamo su Mortal Kombat X! Oggi faremo un torneo flash... No, sì... Cosa? Io c'ho ARRU! No, poi non la so... Mai più, eh! Basta! Mai più! Se i sotteggi sono stati fatti, le squadre sono queste, io contro Davide e adesso contro Leonardo Sono le semifinali! Eh, io già lo so chi me lo guarda! E coglionate! Allora io me vi ho... No, sbagliato! Ah no, è giusto! Bella... Oh, dove sta... Dove sta... Bello... Bello bello? Ehi! Voi... Voi ricordare la bella! Ehi, cazzo, vatti! Ehi, cazzo, vatti! Ehi, cazzo, vatti! Ehi, cazzo, vatti! Ehi, cazzo! Sto schiumando! Quindi accenderò l'aria! Senti, zitti, giocamo! Ma voi! Sono le diversità giugali! Ma che è sta roba? No! Da! Ma sei scena! Ma che cazzo dici? Ma sta zitto, muori! Vabbè, da! Mori! Mori! Ma sta zitto, è te! Oh! Questo è il caso! Oddio! Eh, no! Guarda che t'è! Che t'è! Che t'è! Che t'è! Che t'è! Che t'è! Guarda! Ma pure questo è il mare! E ora sei che sta a prendere il tiro! Si, ho capito! E questo è... No, ho sbagliato! Eh, no! Guarda! Guarda, guarda come si fa! Mamma mia! Mamma mia! Pah! Scotta! Braula! Mamma! Oh, ti ho fatto! Oh, ti ho fatto! No! Terni, allora! La capazza! Oh, oh! Non sei mai colei con la capazza, eh! Ma ho fatto il ruoto! Oh, me ne frega un cazzo! Ahahahah! Tu ti vedete, no? Tu ti vedete! Yes! Oh, bella! Mi potessero sciare! La 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 la! C'è il tempo! Vieni! Vieni! Sei il mio punchyball! Il mio punchyball! Il mio punchyball! Il mio punchyball! No! Ahahah! Adesso fa il coglione! Sono il tuo punchyball! Tu 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 tu! Ok, scusami, davvero! Quattatana! Dacci un grande patatana! Oh, che fame che fai! Ti dico! Vabbè, non ti vedete! Vabbè, non ti vedete! Ah, mamma mia! Vabbè, non ci mi può rotti il cazzo! Ah, ragazzi! Oh, ragazzi! Oh, ragazzi, lo buono! Che cosa fa con le tinte del piano? Oh, ragazzi! C'è il cappelletto mio! Era più bello il cappelletto che trova, però, del tuo! C'è le lucette da progio! Ahahah! Non è il led sul cappello? Sei il led da mare! Sei il tabanone di buttino! Ti dico! Mi piace! Bello! Mi piace! Dio! No! 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 Eh, è giusto, eh! 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 Questa quanto è bella, rica! Mamma mia, guarda che t'è! Bella, ragazzi! Traa! Mamma mia, questa quanto cazzo è violenta! Prima semifinale vinta la data! No, no, no! No, no, no! È giusto così! Seconda semifinale! Sì, secondo semifinale! Sì, secondo semifinale! Sì, vabbè, la volta che adesso parla devi chiedere permesso perché non è capace! Fai censura! Non c'è censura! Non so! Te lo vuoi prendere! Eh, metta un attimo! Dai, su! Riomante! No! Riomante! 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 Il classico Sub-Zero contro... Come si chiama? Era come la madre di Baccellona! Ma no! Ma cosa che hanno detto di Baccellona? Ma che si dici? Come deve stare! Questa mattina mi ha invitato un derby di campagna! Aveva iniziatabilità! Aveva iniziatabilità! È solo per secola! È solo per secola! È solo per secola! Scorpio! Ok, scopio! Non mi ricordi di Baccellona! Non mi ricordi di Baccellona! Ma come è che si separava? Guarda di lui! Guarda di lui! Guarda di lui! Guarda di lui! Oh! 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 E siamo, tanti 편osi! Oh! 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 kokina! Oh! Wow! Pieco! Oh! Wow! Oh! Oh! Oh, come medico! BAM! Che cazzo si fanno le cose? Capito? Non lo saprei mai Fai lavate! Mamma mia! Ecco la finale, tanto attesa, da tutti voi! Tutta YouTube Italia attendeva questa finale! Tutti si! Voi capi che ti chiede il permesso per non parlare? Posso parlare? Posso parlare! Mi bello, mi bello, mi bello! No, te ne ho pensato che il mio talento non è apprezzato! La giungla! La giungla! Quadan! Oh! Giochiamo in casa, vengo io! Giochiamo in casa! Ah, vabbè, giochiamo! No, sono ancora la sua vita! Niente, bro! Prima parte! Scorpio! Attenzione, è sempre fortissimo lui! No, non vai! Mi hai un corso! Cappello! Cappello! Siii! 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 Vince la prima mancia! Scorri di Pizze! Serratississima! Tanto numeriato! Tanto numeriato! No, no! Ci rialzi perché... Vabbè, me rialzo! Si rialzati! Vai! Anche voi lo dicevi in maniera mezzanazista! Niente, via! No, va via! In maniera mezzanazista! Ma va via! Fai! Giusto così! Niente, proprio! Entra! Mamma mia! E' la curia che è la rimutata! Oh! E' la curia che è la rimutata! Oh! E' la curia che è la rimutata! Niente, Z discrimination dell'amore! Ha benvole自 Assuca! Eh! Quella è la zia! Ah la zia! E' la magцinza del minimo! Ah! Ma che è la zia! Una manaba dis center! Ehh! Lo sapete chi è? WOOOOOOOOIND Mezzanazista! WOOOOOOO! Ho brandonatore! E con l'in multiplying! Ezra Automata! Lo sapete? È la mamma dinenия! Finisce el 9! C'è non è che il tema yatago! No, spaccato Ah, il trofeo Spide 1, non è niente Finisce Basta Vabbè Vabbè E anche questo video è finito E che dire No, che dire niente Perché non ha detto meritatamente Ma che cos'è? Io farei il prossimo, ha meritato Ha vinto, ha meritato Deve essere sincero Non è stato così Così, non è stato così Così, non è stato così Seguiti i video che metteremo? Basta Che metteremo, senza prossimamente Che metteremo? Prossimamente Prossimamente No, perché senore Basta che non dici i prossimi video prossimamente Adesso tu qua dovevi usare prossimamente e non l'hai usata Seguiti i video che metteremo prossimamente Vabbè dai, fa la chiusura e vincito La cosa Gli reminder vi salutano e al prossimo video bella bella a tutti